Luna nuova in pesci, soldi no stress. La luna si porta in pesci, la luna nuova sarà in pesci, la luna nuova è una luna tendenzialmente progettuale, ma essendo in pesci tendenzialmente ci chiede maggiore attenzione alla nostra emotività, a ciò che desideriamo fare, ma soprattutto proprio ai nostri desideri e ai nostri sogni. Questa luna in pesci ci porta inevitabilmente ad avere desiderio di progettare rispetto ai nostri sogni, ma i sogni spesso e volentieri vengono boicottati da quella che è la contingenza economica, ovvero da quello che è la difficoltà poi a realizzare materialmente in quanto vivere in questo mondo è costoso e spesso magari i nostri sogni necessitano di magari molto tempo di progettazione, di tempo di prova e nel frattempo come si vive, nel frattempo come si fa? Ecco, questo genera ansia, spesso e volentieri, genera ansia e genera stress, oppure può esserci anche un altro caso, il caso per esempio che vorremmo avere tempo da dedicarci alla lettura, anche alla nostra crescita spirituale o cose di questo tipo, ma siamo sempre troppo impegnati con le faccende, con i conti, con tutto quello che è il nostro contingente. Ecco che questo genera ansia, genera ansia e che va gestita perché a volte appunto questa necessità che impelle da sotto proprio crea una sorta di tensione che porta le persone a sentirsi a volte molto ansiose se non addirittura in panico. Questa è una luna, è una luna che da un lato ha delle caratteristiche molto belle perché ci sono delle spinte verso il proprio sogno molto forte, ma da un lato è una luna che è anche un pochino insidiosa, congiunta a Sole e Saturno, che tra l'altro guardano Plutone e Venere in maniera un po' contratta, proprio rispetto a questo Plutone che sta arrivando verso l'acquario e quindi che già comincia a fremere rispetto a questa società, che guarda appunto, cioè anche questo Sole e Saturno che guardano anche a Venere appunto con la questione del valore, con la questione anche economica. complesso, complesso il discorso, questa prima parte dell'anno in particolar modo da questo periodo primaverile si entrerà in un periodo appunto un po' acquatico, un po' sommerso da tante cose. Io a inizio anno vi dissi che c'erano delle sfide, l'anno 2023 è un anno sfidante, non è un anno buio come lo sono stati i precedenti, è un anno sfidante, un anno che ci mette davanti a delle prove, un anno che ci mette davanti a degli esami e anche per quanto riguarda il valore, per quanto riguarda i nostri sogni, per quanto riguarda ciò che desideriamo fare, ci metterà abbastanza alla prova. Perché comunque si pone, ci mette davanti alla nostra verità interiore. Fin qua abbiamo potuto muoverci facendo bene, facendo meno bene, ma in qualche modo sempre un po' giustificati dal fatto che c'erano delle priorità, dal fatto che tutta una serie di situazioni. Per una serie infinita di ragioni, a partire dalla pandemia, tutto quello che è avvenuto dopo è come se le varie bucce si fossero tolte ed è rimasto il nucleo. È rimasto il nucleo e quando si è nudi davanti a se stessi c'è poco da dire, ci si vede. Non so se avete presente quando si va magari a fare una visita che vi viene chiesto di spogliarvi e magari c'è quello specchio con quelle luci così bianche che mettono in risalto ogni singola cosa che non funziona. Ecco, quegli specchi che in un secondo riescono a mettervi di fronte alla realtà in maniera così cruenta, così drastica, che ci si resta spesso male. Si nota tutto. Ecco, questo periodo dentro a questo pesci ci porterà in qualche modo con Nettuno che si è appena accompagnato a Venere, ma poi che entra dentro Saturno. Insomma, ci sono tutta una serie di movimenti nettoniani dentro il pesci che da un lato ci confonderanno, da un lato però in determinati momenti ci metteranno di fronte a quelle verità scarnificate che si fatica a volte ad accettare. E questo passaggio è fondamentale, fondamentale perché in realtà sarà il precursore a quella che è la nuova costruzione. Dobbiamo finire di gettare gli ultimi sacchi di immondizia che dobbiamo ancora gettare per poter poi passare a qualcosa di nuovo. Quindi noi sapete, lavoriamo costantemente in accordo a quelle che sono le energie planetarie. E proprio per questo passaggio abbiamo scelto di fare tre workshop pratici con proprio tecniche per affrontare questo periodo. Quindi il primo che affronteremo sarà proprio quello della gestione dell'ansia. Quindi vi aspetto, guardate in descrizione quelle che sono le... dove potete chiedere il link per poter accedere a questo workshop. E se state vedendo questo video dopo che abbiamo fatto il workshop non vi preoccupate, c'è sempre la possibilità di recuperarli. Basta che guardate il link in descrizione.